Lo sapete tutti, non sono una persona diplomatica, non sono gestibile e me ne vanto, sono uno spirito libero. E questi miei auguri per il 2024 vogliono essere liberi, diretti, vogliono essere particolari. Certamente auguro ad ognuno di voi di centrare i propri obiettivi, di coronare i propri sogni, ma voglio augurare ad ognuno di voi e ognuno di noi di riscoprire o di rafforzare la propria dignità, batterci per la nostra dignità, di esseri umani prima ancora che di cittadini. L'augurio di essere forti e di non cedere ai compromessi e di far sì che la nostra dignità sia rispettata sul posto di lavoro, nel rapporto con le istituzioni, nella difesa della nostra vita e della nostra salute. Una parola magica, dignità, che si è persa, che si è barattata, che si è venduta e che si è svenduta. Sì, purtroppo, soprattutto in questa città, si è approfittato molto e si approfitta molto e si cercherà di approfittare molto della dignità altrui, giocando, puntando sullo stato di debolezza, di sottomissione. Sveglia, Taranto, riscopri la tua dignità, riscopri i tuoi diritti, ama la vita, ama te stesso, non farti calpestare. E il mio augurio per il 2024, dal più profondo del cuore, senza così essere sdolcinato, perché è facile essere sdolcinati nel fare gli auguri. Una sola parola, dignità e rispetto dei diritti. Buon 2024 a tutti, amici tarantini. Grazie a tutti.